Una gaffa o una scelta ponderata? Ai recenti Screen Actor Studio, il premio del sindacato degli attori di Hollywood, tradizionale anteprima degli Oscar, la bella Angelina Jolie si è presentata con un abito blu cobalto firmato Max Asria, costo 798 dollari, indossato però al contrario. Non è certo se l'affascinante attrice l'abbia fatto per mostrare i suoi tatuaggi sulla schiena, perché il suo procaccio seno non avrebbe consentito una scollatura troppo audace o magari per una semplice sventatezza. Il critico de Los Angeles Times, The Boothmore, ha comunque detto che Angelina è una delle poche star a mostrare uno stile assolutamente inconfondibile sul tappeto rosso.